C'è un uomo di talento e valore, Capitano Cambuì. Sono certo che lo troverai. E se sei confuso, non esitare a chiedere aiuto al tuo quartier Mastro. Quartier Mastro! Qual è la rotta attuale? Verso est, Capitano. Si è sempre a Kingston che si va. Certo che sì, mia moglie. Si parte! Pronti a salvare le ancore? Mettiamoci rotta. Si va verso la Giamaica. Quartier Mastro! Quartier Mastro! Quartier Mastro! Quartier Mastro! Quartier Mastro! Capitano Kenway, hai qualcosa per me? I recenti spostamenti del Templare Walser Rogers Prende parte a un evento politico, quindi attento Si dice che il re Giorgio abbia chiamato Rogers a Londra Già, è scontento della situazione a Nassau Ancora troppi pirati in circolazione, a quanto si dice Dovrai travestirti per ingannare gli sgherri alla festa Potresti far visita a un diplomatico, Ruggero Ferraro È sulla nostra lista da un po' Intesi Puoi spedirla in Inghilterra per me? Si, una nave parte domani Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol Grazie a tutti 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 Nessun segno di gioia, niente estetica Camminate per la strada come animali Come veste senza senso del decoro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti